Ciao a tutti, nuova rubrica di questo canale YouTube Top & Flop. Difficile partire con Lazio Chievo, visto la performance deludente di tutti i giocatori della Lazio, ma bisogna iniziare e quindi cominciamo con Lazio Chievo. Difficilissimo scegliere il migliore in campo della Lazio per la partita di sabato scorso, ma alla fine direi che Felipe Casedo merita la Palma come migliore in campo per la Lazio. Non solo il gol, è stato l'unico veramente a combattere per 90 minuti, a provare qualcosa, a giocare tutto sommato a livelli accettabili. Inoltre Casedo è il capo cannoniere del 2019 della Lazio e questo dice anche tutto sulla condizione di questa squadra, una squadra che sta facendo tantissima fatica a segnare. Insomma, i numeri dell'anno scorso confrontati con quelli di quest'anno sono impietosi, c'è un gap incredibile, mancano non solo i gol di Cirem Mobile, ma anche quelli di Luis Alberto, Minikovic, Savic, dieci introgampisti e anche dei difensori. L'unico che sta facendo meglio è appunto Felipe Casedo, che si merita la Palma di migliore in campo contro il Chievo. Peggiore in campo invece la lotta è serratissima, ci sono tantissimi giocatori che hanno deluso contro il Chievo, potrebbe essere Luis Alberto, poteva essere Cirem Mobile, poteva essere Dormisi e Patrick, che avevano un'altra volta un'occasione per far ricredere i scettici, e invece hanno fallito, ma direi che alla fine il peggiore in campo di Lazio e Chievo deve essere Minikovic, Savic, non solo per quello che non ha fatto, ma anche per quello che ha fatto in campo. Insomma, il cartellino rosso nel primo tempo, un fallo di reazione stupidissimo, ha condannato tra virgolette la Lazio a questa sconfitta, ha messo la squadra di Inzaghi in grandissima difficoltà, un fallo stupidissimo, un calcione per un falletto del genere è una reazione spropositata. Adesso bisognerà anche vedere quante giornate di squalifica riceverà il Serbo, perché non è detto che venga sospeso solo per una giornata, un fallo stupidissimo, un fallo che è costato carissimo alla Lazio. Qualcuno dice che la corsa Champions League è ancora là, sono solo quattro punti di differenza, però visto come la Lazio ha giocato un trochievo, è difficile pensare che la squadra di Inzaghi vincerà tutte le prossime partite. colpa anche di Minikoj Savic, il cui rendimento non è assolutamente allo stesso livello dello scorso anno e questo è uno dei motivi per cui la Lazio ha perso contro Chieve. Siete d'accordo? No? Scrivetelo nei commenti qua sotto. Grazie. Grazie.